1961 e 2021 60 anni di un libro di cui parliamo in questa seconda sveglia quale libro è ovviamente i novissimi i novissimi esce appunto nel 61 per paola zierusconi e e ci dice molte cose sul clima di quegli anni sulla struttura testuale che andava a crearsi e che si sarebbe consolidata negli anni successivi al punto da portare con sé molta molta della molta parte delle generazioni giovani in quegli anni dalla dalla sua parte ed è un libro tuttora comprensibilissimo i novissimi nasce con delle annotazioni al margine quindi assolutamente leggibile non è complesso come molti dicono è complesso quanto è complessa la società che in quegli anni nasce e cresce siamo negli anni di una distanza ormai attestata dal dal dopoguerra e quindi siamo in anni di avvenuta ricostruzione e di boom economico sappiamo che questo boom avviene sulla pelle di tanti lavoratori e lavoratrici e con questioni politiche e di organizzazione della criminalità e la nascita di tante di tanti disastri che poi saranno di fatto quelli della dell'italia che viviamo adesso soprattutto che abbiamo iniziato a vivere in particolare dal 92 al 94 in avanti e quindi è un un'italia che si deve confrontare con dei linguaggi che mantengono uno spirito una carica critica fortissima ma non nelle forme che erano già note andate a leggere i novissimi sono appunto 60 anni spesi a mio avviso molto bene il libro non solo regge ma si legge molto 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 bene non vedo cosa ci sia di complesso nella scrittura in quel libro di pagliarani pagliarani forse più complesso viene subito dopo il più sottile viene negli ultimi anni della sua vita della sua opera pagliarani è tutto da leggere come sono tutti da leggere tutti i cinque autori dei novissimi il sottotitolo poesia per gli anni 60 forse va esteso perché gli anni gli anni sono anche quelli che seguono è comprensibile giuliani che addirittura in certi momenti raggiunge delle vette di lirica che oggi ci stupiscono ma forse stupivano anche allora è assolutamente leggibile porta nelle sue ambientazioni nella creazione di elementi di grande inquietudine non solo linguistica ma proprio narrativa per certi aspetti anche se non si tratta di una narrativa normale o diciamo una narrativa che ci aspetteremmo e così sono comprensibilissimi sia palestrini che sanguinetti grazie anche a queste note santo cielo come faccio con sanguinetti non riesco c'è un'edizione di laborintus che l'opera incluse in parte nei novissimi di curata da erminio risso e pubblicata da manni in seconda edizione accresciuta tra l'altro recentemente quindi permette questa edizione di leggere con dei supporti critici straordinari l'opera di sanguinetti a prescindere dalle note che comunque già si trovano nell'antologia dei novissimi balestrini segmenta troppo violentemente la sintassi io non riesco a seguirla ma se ci si abbandona proprio al procedimento di segmentazione di frammentazione forse si riesce anche a rientrare nel discorso di produzione di senso e a percepirlo perfettamente così come appunto lo costruisce l'autore 60 anni appunto ottimamente portati questo non è uno spot ma è semplicemente una necessità un dovere una specie di come dire di promemoria di post it che la sveglia si sente di fare sui novissimi che come al solito compaiono rovesciati per via della 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 telecamera e che appunto sono il rovescio il retro come direbbe costa di una letteratura in cui altrimenti in questo periodo non possiamo identificarci questo è il retro conoscete nella letteratura sul dritto forse sul rovescio c'è qualcosa ancora da leggere da ascoltare